In collaborazione con Antica Cantina di Canelli Sentiamo direttamente da Roma su questo dibattito del riordino delle province che coinvolgerà sicuramente, questo è certo, la provincia di Asti. Beh sì, c'è un riordino delle province che non riguarda soltanto il tema dei limiti geografici o delle dimensioni, ma riguarda proprio le funzioni che andanno a espletare e io credo che anche il tipo di dibattito, la discussione deve essere riportata a quello che saranno le province comunque dopo la riforma, nel senso che non saranno più province con le funzioni come le pensiamo e come le viviamo adesso, ma saranno province molto più leggere perché molte delle funzioni delle province arriveranno direttamente ai comuni, quindi saranno i comuni che dovranno gestire anche in ambito territoriale più allargato rispetto ai propri confini alcuni servizi. Allora io credo che da questo punto di vista Asti e altre province in bilico o fortemente compromesse da lì debbano aprire un discorso con altri territori, non in termini di annessioni a nuove province che la legge non consentirebbe, ma per trovare soluzioni all'uso di servizi, alla messa in rete di servizi che i comuni faranno. Poi da lì può anche scaturire magari un allargamento, un mantenimento di alcune province che riesce a ampliare i propri confini, ma se noi parliamo soltanto in termini di annessione o di mantenimento di quello che è, io credo che noi perdiamo una chance e non vediamo quello che sta accadendo. In collaborazione con Antica Cantina di Canelli